E' stata fissata per il 22 giugno l'udienza preliminare per il filone d'inchiesta sulla banca rotta riguardante il crack della vecchia Banca Etruria contestata a 20 tra ex dirigenti e membri del CDA. Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha chiesto il rinvio a giudizio per 20 dei 22 indagati, 10 dovranno difendersi dall'accusa di banca rotta colposa, altrettanti invece dovranno rispondere di banca rotta dolosa o fraudolenta. Tra questi gli ex presidenti della banca Giuseppe Fornasari e Lorenzo Rosi, l'ex direttore generale Luca Bronchi, gli ex vice presidenti Giovanni Inghirami e Giorgio Natalino Guerrini e i due membri del CDA Augusto Federici e Alberto Rigotti, nonché i dirigenti Federico Baiocchi, Paolo Luigi Fumi e Pietro Burzi. Questa prima tranche del corposo filone sulle presunte distrazioni patrimoniali riguarda 180 milioni di crediti concessi e mai rientrati. Si andrà in aula il prossimo 7 dicembre invece per quanto riguarda l'altro filone di inchiesta, quello riguardante la truffa. È stata infatti fissata l'udienza preliminare per 5 dirigenti della vecchia banca Etruria, ma in questo caso la platea degli indagati è ben più ampia. L'accusa per loro è di istigazione alla truffa. L'ipotesi della pubblica accusa infatti che i dirigenti abbiano spinto le filiali a piazzare quante più obbligazioni subordinate possibili, azzerate come ben noto il 22 novembre 2015, incentivando i direttori che seguivano le direttive e penalizzando gli altri. A debiti che diretti interessati hanno sempre respinto.